Sono solo deluso, i colpevoli addirittura sono andati a lavorare, non hanno avuto nessuna punizione, nessuno ci ha contattato, non ci hanno ancora dato gli effetti personali dopo un anno. Noi non abbiamo più visto il nostro fratello, non ce l'hanno neanche fatto vedere perché non c'era più niente, è inutile che stiamo a nascondere, che hanno restituito i colpi, che hanno restituito quello che potevano, quello che hanno dilagnato. Hanno avuto il coraggio di mandarci i fiori, nient'altro, noi non l'abbiamo accettato, devo ancora contestare una cosa, che si sono permessi di spostare il treno con i pezzi dei ragazzi ancora attaccati e quelli di donanze funebri sono dovuti andare a recuperare loro ad Alessandria. Risarcimento non ne sono arrivati a mandare? No, nessuno, ma a noi non ci interessano i risarcimenti, ci interessano che venga fatta giustizia, che vengono presi i colpevoli e ci dicano come sono andate le cose, perché hanno nascosto tutto. Noi non abbiamo più sentito nessuno, non ci hanno dato aggiornamenti, non ci hanno detto nulla. Io conoscendo mio fratello non si sarebbe preso un minimo di rischio, perché non gli piaceva rischiare, quindi è stato tutto nascosto e loro insaputa hanno fatto queste cose, io lo posso garantire, perché se era preoccupato non sarebbe andato, non era uno che prendeva il rischio gratuito, cioè nel senso era uno che lavorava sul sicuro, voleva lavarsi sul sicuro, ma loro non sapevano nulla, sono sicuro. Hanno sempre giocato, però stavolta è andata male, purtroppo ci hanno rimesso i nostri familiari. Una tragedia nel vero senso della parola, però stiamo cercando di reagire, c'è qualcuno più forte, qualcuno più debole e ai più deboli ci pensiamo noi, perché loro non ci hanno pensato.